e quindi guarda un po' te rondine dalla dislocazione delle spalle ancora una volta è salito prima di scendere e dalla sospensione alla croce Yamawaki, Yonason direttamente alla bilancia di varicata scatto alla croce bello questo salire in appoggio rovesciato braccia perfettamente tese dallo slancio avanti lo stesso movimento è il doppio teso con un giro d'avitamento atterraggio non pulitissimo senz'altro un ottimo esercizio non so se possa equivalere al 14.6 di Oliver questa è una difficoltà di notevolissimo spessore vi lascio immaginare la sollecitazione di articolazioni e massa muscolare ecco la Yamawaki e adesso la Yonason questi movimenti questi salti avanti queste rotazioni avanti non salti attorno all'asse delle spalle una volta raggruppata una volta carpiata è il doppio teso con avvitamento vedi il bacino in arretramento non può permettersi di aggiustare perfettamente la terra grazie a tutti Grazie a tutti